... ... ... ... ... ... E intende quanta voglia c'è 105 Lei lui l'altro Lei lui l'altro 105 show Venerdì siamo giunti alla fine di questa settimana Trascorsa insieme qui a lei lui l'altro Buon 16 febbraio a tutti quanti Ma ciao Lodo Comello Ciao Dario Micolaus in arte ma solo in arte Dario Micolani Io lo posso dire E allora ciao anche all'altro che è Edoardo Mecca Ciao ciao a tutti salutiamo anche DJ Spine Ciao ragazzi buonasera Ciao Spine E anche la Vale Valeria Stoppelli oggi con noi Ciao Io voglio subito leggere Un messaggio di firmato Paolo Dalodi Che scrive ragazzi posso fare gli auguri A una radio molto particolare Fantastica Auguri a Radio 105 Ciao a tutti auguri 48 anni Li sentiamo Perché da 48 anni Ti sentiamo Radio 105 È bella questa È bella Un bel gioco di parole Mi ha fatto bene venire Allora Masha puoi anche andare adesso No scherzo Chi c'era Buonasera a tutti Sono Alex Vazia Oggi ascolto il vostro programma Da Nuova Zelanda Sono arrivata a piedi Non è possibile Proprio pochi minuti fa No è possibile Ieri ero in Grenlandia Ieri ero in Grenlandia Ieri ero in Grenlandia Ma perché arriva alle 18 Sempre c'è a terra in un posto nuovo Perché lui vuole essere in un posto fisso Così si connette Ci ascolta capito Non può essere in movimento È una scelta È bella Grazie a tutti.